Quindi presentiamo la quarta concorrente in gara, liberi di essere noi stessi, liberi di esprimere ciò che proviamo dentro mostrandolo fuori, liberi del pregiudizio, liberi da sentirsi inadeguati, amate voi stessi, liberatevi dalle catene e dalla mente della gente, libertà e d'amore si stringono ed ecco che nasce il fuoco che non si può e non si deve più spegnere. Con il numero quattro Lady Diamond 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 Loro non sanno di che parlo, questi che sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando, scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita. Con questo run mi sto allenando, buonasera signore e signori fuori gli attori, vi conviene toccarti i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, molli prendo a calcio sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori ma... Siamo fuori di testa, ma diversi da loro 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 Vieni, vieni, vieni Vieni, 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 vieni